Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Confessione a sorpresa della showgirl e ballerina Lorella Cuccarini a pochi mesi dal suo ritorno in televisione, tutta la verità. Il prossimo mese di settembre, la showgirl Lorella Cuccarini tornerà nella scuola di amici di Maria De Filippi. Quella che fino a poche settimane fa sembrava essere una indiscrezione, in queste ore si è trasformata in una vera e propria conferma. La stessa ballerina in una recente intervista si è detta pronta a tornare al suo posto nel più famoso talent di casa Mediaset. Come accaduto nelle precedenti due edizioni, anche nella prossima sarà parte integrante del corpo insegnanti e per la seconda volta consecutiva nella categoria canto. La diretta interessata ha quindi smentito subito l'ipotesi di un ritorno nella categoria ballo magari al posto di qualcuno in uscita. Nessuna novità vera e propria per lei quindi che sarà coinvolta nel progetto di Maria De Filippi in un ruolo che conosce ormai molto bene. Lorella Cuccarini, il ritorno ad amici, il suo annuncio è ufficiale. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli, screenshot witty. Il portale tgcom24 ha pubblicato una breve ma ricca intervista della Cuccarini con argomento principale e il suo ritorno nel noto talent. La showgirl ha confermato, è un'esperienza talmente bella che non avrebbe senso interromperla. Il ruolo come prof è bellissimo ed importante. Una scelta quindi ormai ufficiale e resa possibile anche grazie alla De Filippi, con lei lavorerei anche 12 mesi l'anno, con lei si lavora benissimo. La Cuccarini ha anche aggiunto che prenderà parte alla nuova edizione del format ancora come insegnante di canto, è una strada che mi ha dato tante soddisfazioni. Dopotutto nel corso dell'ultima edizione andata in onda del talent, ben due suoi allievi sono arrivati all'ultima puntata, i cantanti Alex e Sissi. Un obiettivo che Lorella sembra intenzionata a raggiungere anche nel corso della prossima edizione. Un ritorno quindi senza grandi novità per lei che all'inizio sembrava potesse tornare nel cast del noto talent nelle vesti di insegnante di ballo. Si è discusso molto della possibilità di vederla per esempio al posto di Veronica Peparini che al contrario sembrerebbe essere meno certa di un ritorno. La Cuccarini invece resta confermatissima per la categoria canto, un destino che sembrerebbe condividere con il collega Rudy Zerbi. Al momento meno certa di un ritorno sembrerebbe essere invece Anna Pettinelli e potrebbe essere quindi lei quella più vicina ad un addio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.